I tormenti del PD gelese come emblema di una città tormentata, dilaniata da una politica che in maniera incisiva sa solo litigare e dividersi, quando invece è chiamata ad occuparsi delle comunità amministrate. Altrove, la politica fa veramente poco, è vero, ma Gela ha fatto peggio, perché non solo non ha risolto alcun problema, ma di contro i problemi li ha proprio creati. Basti guardare in quali condizioni è stata ridotta Gela per rendersi conto del cattivissimo operato di chi l'ha governata. E il PD, che non è solo il maggior partito cittadino, ma anche e soprattutto quello che ha amministrato Gela negli ultimi 22 lunghissimi anni, prima dell'avvento della giunta messinese otto mesi fa, continua a dimostrare tutti i suoi pregi, o forse tutti i suoi difetti, ossia frizioni interne a non finire, spaccature nette, talmente nette da creare a tutti gli effetti due partiti in uno. Ed è già tanto per il PD gelese che fino a pochi giorni fa sembrava tre partiti almeno in uno. Ora, ufficialmente, è un partito a due teste il PD gelese, una sorta di mostro sottomarino visto in alcuni film di fantascienza. Uno è quello che ha eletto Peppe Di Cristina quale nuovo segretario cittadino, l'altro è quello che disconosce questa elezione e sta per organizzare un contro congresso per preleggere, dicono loro, il vero segretario cittadino del PD. Un bel guazzabuglio, non c'è dubbio, che rispecchia appena un regime il guazzabuglio di problemi in cui sta annegando Gela. Loro litigano, invece che aiutare la città ad uscire dal tunnel della crisi più grave della storia moderna di Gela, e la città precipita, inascoltata nel baratro. Se n'è parlato ieri sera da Goran, il corso di una trasmissione che ha ospitato proprio il neosegretario cittadino del PD, Peppe Di Cristina, ma anche un alto esponente dell'altro PD locale, quello definito della Fronda Renziana, che non riconosce il PD di Di Cristina e i suoi nuovi vertici. In studio, infatti, l'avvocato Giuseppe Licata, segretario del circolo Gela Città del PD, ostile a quella parte di PD che ha eletto appunto Di Cristina. E poi ancora il componente della direzione regionale del PD, Giacomo Gulizzi, e quindi il sindaco di Gela, Domenico Messinese, oltre all'assessore alla Polizia Municipale allo Sport, Eugenio Catania. Fresco dichiarimento con l'architetto Emanuele Tuccio, dirigente comunale, con il quale era scoppiato un caso politico-amministrativo giornalistico, poi rientrato dopo la riappacificazione dei due, grazie anche all'intervento di mediazione dello stesso sindaco messinese. Nervi tesi, dunque, in una città che non ne può più di una politica inconsistente e distruttiva, e che finora è stata impegnata solo a coltivare i propri orticelli, infischiandosene sonoramente di Gela e dei suoi tanti problemi. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora, potrà farlo domani sera con la messa in onda della replica integrale, che sarà trasmessa da Canale 10 a partire dalle ore 21, oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo, in prima serata, con Gela e Di Gelesi al centro dei nostri riflettori.